Ami questo gioco? Insomma, lo ami con tutto il cuore. Se non è così, non vale la pena parlarne. Non apriremo una porta che ci sbatteranno dritta in faccia. Io amo questo gioco, io vivo questo gioco. Ci sono molti altri ragazzi che aspettano nell'ombra che sono ossessionati da questo gioco. L'ossessione batterà sempre il talento. Hai tutto il talento del mondo, ma ne sei ossessionato. Ascolta, lì fuori sei tu contro te stesso. Quando sei su quel campo... devi pensare, io sono il migliore qui dentro. Te lo chiedo di nuovo. Tu ami questo gioco. lo chiedo a me! Ok! Ok! Grazie a tutti.